Le polizialista per noi sono un traguardo importante, le stavamo aspettando anche noi, ci consentiranno di produrre apparati assolutamente efficaci e efficienti, ma soprattutto resilienti agli attacchi. Abbiamo l'ambizione di produrre apparecchiature che siano resilienti a qualunque tipo di attacchi e qui ecco perché noi siamo in attesa che queste procedure di certificazione vengano messe. Noi ci aspettiamo che questo processo di certificazione avvenga il prima possibile, che vengono emesse queste note di certificazione in modo tale che noi ci possa adeguare quanto più rapidamente possibile, perché potrebbe essere un problema di marketing, ma potrebbe essere anche un problema di allestire nuovi processi e nuove regole all'interno dei nostri laboratori. Quindi è chiaro che prima arrivano, per noi meglio è.